Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del Tg DTV City. In apertura sempre l'emergenza sanitaria con il nuovo DPCM firmato questa notte dal Premier Conte e dal Ministro della Salute. Speranza in vigore fino al prossimo 13 novembre. Facciamo il punto della situazione anche in provincia di Napoli. A Torre del Greco buone notizie sul fronte delle quarigioni. Positivo invece il parroco del Sacro Cuore ad Ercolano, Don Marco Ricci. Sul fronte scuole oggi ha riaperto l'Istituto Pantaleo a Torre del Greco dopo un intervento di sanificazione. Il dirigente scolastico Mingione ai nostri microfoni smentisce le voci infondate su presunti casi di Covid nella sua scuola. Invece in quarantena due classi dell'Istituto Comprensivo Don Bosco d'Assisi. Spazio anche alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza a Nola sequestrati oltre 570 prodotti pericolosi. Nei guai è finito un 38enne di origine cinese. Torniamo a Torre del Greco. La giunta approva il progetto Torre del Greco sicura che prevede l'installazione di oltre 180 telecamere su tutto il territorio. I nostri microfoni, l'assessore Raffaele Arvogno e la consigliera Carmela Pomposo. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Firmato nella notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro Speranza, il nuovo decreto ministeriale che sarà in vigore per i prossimi 30 giorni. Bar e ristoranti chiusi alle 24, anche se alle 21 sarà vietato consumare in piedi. Vietate le gite scolastiche e lo sport amatoriale. Il DPCM vede nel primo articolo l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni, sull'intero territorio nazionale. Dall'obbligo escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre, fortemente raccomandato, l'utilizzo dei dispositivi anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Chiuse discoteche, sale da ballo, fiere e congressi. Restano consentite cerimonie civili o religiose come i matrimoni, con la partecipazione massima di 30 persone. Intanto la movida continua su tutto il territorio nazionale. Preoccupato, il Premier Conte ha deciso la chiusura dei locali alle ore 24. Resta per gli spettacoli limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. In campagne, i positivi al Covid-19 salgono a 19.192 per 662 nuovi casi su 7.405 tamponi. Nel napoletano, precisamente a Torre del Greco, è stato registrato un solo caso positivo al Covid-19 e 9 guarigioni nella giornata di ieri. Sospesa intanto la frequenza scolastica di due classi della scuola Francesco d'Assisi. Gli alunni sono stati esposti, seppur per brevissimo tempo, al contatto con un soggetto positivo al coronavirus. Ad Ercolano chiusa ai fedeli la chiesa del Sacro Cuore di Gesù per la positività al Covid-19 del parroco Marco Ricci, che dà la notizia sulla pagina Facebook. Don Marco spiega Intanto ci sono buone notizie sulle condizioni di salute degli anziani ospiti della casa di riposo privata Pio XII a Portici, dove nei giorni scorsi si sono registrati 57 positivi al Covid. Gli ospiti negativi al Covid sono in buone condizioni generali, scrive il sindaco Vincenzo Cuomo sulla pagina Facebook. Crescono i contagi a Castella Mare di Stabbia, che nella giornata di ieri ha registrato ben 11 casi positivi da Covid-19. Occorrono maturità e senso di responsabilità nel rispettare le regole, indossando sempre la mascherina in modo corretto ed evitando contesti affollati, ha fermato il primo cittadino Gaetano Cimmino. Rischio lockdown a Somma Vesuviana, dove la registrazione di 36 nuovi casi sul territorio ha spinto il sindaco Salvatore Di Sarno a convocare una riunione con l'ASL e dirigenti scolastici per valutare misure più stringenti sul territorio cittadino. Il dirigente Giuseppe Mingione dell'Istituto Superiore Eugenio Pantaleo smentisce in maniera chiara e netta le voci infondate sui presunti casi sospetti di Covid-19 nella sua scuola. Per tranquillizzare le famiglie, ieri la scuola è stata chiusa per la sanificazione degli ambienti e oggi l'Istituto è ripartito regolarmente. Che cosa è accaduto? Non è accaduto niente di particolare, semplicemente premettiamo che gli interventi di sanificazione sono previsti da fare periodicamente e chiaramente in un anno come questo ancora di più. Siccome in questo purtroppo momento di caos e anche di panico per il salire dell'infezione da Covid stavano salendo notizie molto infondate e comunque un po' di panico perché noi abbiamo tantissimi studenti sono circa 1.300 quindi basta una piccola notizia che gira perché ci sono delle situazioni di Covid nel territorio ma assolutamente non riguardano il Pantaleo. Lo voglio ripetere, non riguardano il Pantaleo. Purtroppo siccome per la privacy lì dove in alcuni istituti c'è questo problema per ragioni di privacy non si sa qual è l'istituto e non si sa chiaramente qual è la classe o l'alunno ovviamente i genitori nella paura cominciano a girare notizie false. Per tranquillizzare ho anticipato semplicemente una sanificazione che era programmata più avanti e ho preferito farla. Mi sono chiaramente consultato con l'AS, con il medico interno e quindi abbiamo fatto una valutazione di tipo comunicativo, cioè abbiamo voluto comunicare comunque una tranquillità. Si può parlare di fenomeno psicosi in questi casi? Anche qui noi dobbiamo fare attenzione perché i mezzi di informazione e la scuola in questo momento dobbiamo fare molta attenzione a come parliamo. Non voglio dire neanche che ci sia la psicosi. C'è una normale paura chiaramente dovuto a un virus che si conosce poco e chiaramente c'è preoccupazione perché i contatti in famiglia e i contatti ovviamente che avvengono per strada o in varie situazioni possono portare al dilagare dell'infezione. Quello che invece vorrei fare è un invito educativo, cioè nelle scuole in genere, credo di poter parlare a nome di tutte le istituzioni scolastiche, stiamo facendo veramente il massimo. Però è assurdo che all'interno della scuola ci sia il distanziamento e tutte le misure previste dalla normativa, ma fino all'ingresso della scuola poi i ragazzi magari non usano le mascherine, sto facendo un discorso generale, non mi sto riferendo né alla mia scuola né ad altre. Però in generale per strada i ragazzi magari stanno senza mascherine, si abbracciano, si avvicinano, non tengono la distanza per non parlare a casa, per non parlare delle feste, per non parlare della movita. Quindi credo che sia importante in questo momento così delicato fare informazione ed educazione. Tutti dobbiamo rispettare dovunque ci troviamo le regole di distanziamento e di uso delle mascherine, che sono le uniche due armi che abbiamo. Più non si rispettano queste regole in qualunque ambiente esso sia, e più saremo costretti negli ambienti dove queste regole si possono attivare a inasprirle. Quali misure di sicurezza sta adottando l'Istituto Eugenio Pantaleo? Stiamo adottando quelle previste dai vari regolamenti, il distanziamento, l'uso delle mascherine, il distanziamento nell'aula. La difficoltà sta nel fatto che ovviamente ancora ad oggi purtroppo i banchi monoposto non sono arrivati. E questo chiaramente ci crea non poche difficoltà. Nonostante le complessità del periodo, il preside fa un plauso ai suoi studenti. La scuola e i ragazzi sono esemplari, quindi stanno rispettando, hanno capito il messaggio e lo stanno rispettando. Ci sono i percorsi d'ingresso, la misurazione della temperatura. Insomma, sta funzionando, devo dire la verità, con grande soddisfazione. Che anno scolastico sarà? Sarà un anno sicuramente complicato, però dobbiamo essere positivi e dobbiamo, ripeto, deve diventare un'occasione di educazione, di forza e di capacità, di resilienza. E ai ragazzi che cosa chiede? Agli studenti? Bisogna assolutamente rispettare le regole, la distanza, la mascherina e l'igiene delle mani e dei contatti. Capisco che è complicato perché significa resettare i nostri comportamenti sociali, ma questo è, non è che abbiamo grandi alternative, altrimenti avremo sempre più un aumento dei parametri degli infettati. Che cosa chiede alle famiglie, quindi ai genitori di questi ragazzi? Aiutarci ad educare i ragazzi a rispettare le regole e soprattutto cercare di non fare la caccia alle streghe. Perché questo è il pericolo. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato presso un capannone di Nola nella disponibilità di una ditta cinese di import-export oltre 570.000 prodotti pericolosi e privi del marchio CE. In particolare, il gruppo della Guardia di Finanza di Nola, nel corso di un accesso presso un deposito con sede nella frazione di Piazzola di Nola, ha scoperto utensili domestici, materiale elettronico e giochi per bambini pericolosi. Dai giocattoli, composti con materiale non certificato, agli addobbi natalizi, oltre 3 chilometri di LED, pannelli, ciabatte, torce, mouse e chiavetto USB, ai prodotti di utilizzo quotidiano come calcolatrici, portafogli, orologi, aspirapolveri, sensori per allarme, denunciato il responsabile, un 38enne cittadino di origine cinese residente nel quartiere Poggio Reale di Napoli per vendita di prodotti industriali con segni mendaci. L'operazione rientra nell'ambito della costante attività di prevenzione e repressione dalla contraffazione da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli a tutela del regolare svolgimento del libero mercato, delle imprese oneste e a garanzie della salute dei consumatori. Assessore Raffaele Arvogno, la sicurezza è una priorità di questa amministrazione comunale. Proprio in questi giorni con delibera di giunta è stato approvato un progetto Torre del Greco Sicura. Che cosa prevede e quali sono le finalità? Gli obiettivi sono duplici, quello di creare un effetto deterrente sul territorio, ma anche quello di dare un supporto operativo a tutte le attività giudiziarie sul territorio, quindi dare un supporto sia alla Polizia Municipale ma anche a tutte le attività svolte dai carabinieri, dalla Polizia, quindi di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio. Un progetto importante e anche di un importo abbastanza cospicuo di 1 milione e 300 mila euro circa. Abbiamo optato per mettere anche un cofinanziamento comunale di circa l'11% che ci dà un maggiore punteggio per poter accedere al finanziamento. Perché, ce lo dobbiamo ricordare, è comunque una partecipazione ad un bando pubblico, quindi ci sarà una commissione esaminatrice che andrà a valutare il progetto. Adesso bisognerà aspettare i tempi di tutto l'itero amministrativo? Sì, il bando è in scadenza il 15 di ottobre. Il progetto viene presentato attraverso le prefetture territoriali, quindi non l'abbiamo presentato alla prefettura di Napoli. Ci sarà un protocollo d'intesa con la prefettura di Napoli e poi ci sarà una commissione esaminatrice del Ministero che andrà ad esaminare questi progetti, in base alla percentuale di cofinanziamento, in base anche alla criminalità sul territorio, perché più un territorio è influenzato da eventi criminosi, più avrà dei punteggi per la videosorveglianza. Se non dovessimo rientrare in questo finanziamento, da qui a qualche mese, a qualche anno, il Comune può decidere anche di autofinanziarlo, perché comunque è un progetto importante che la città ci chiede e che comunque va fatto. Quindi noi tentiamo attraverso il Ministero. Lì dove non dovessimo rientrare in questo finanziamento, comunque avremo agli atti un progetto importante da poter portare a termine nel giro di qualche anno. Questo progetto prevede l'installazione di telecamere e di videosorveglianza su tutto il territorio? Sì, sono previste 183 telecamere, 120 telecamere sono quelle normali, 60 telecamere avranno anche il riconoscimento OCR, che ci permetterà di effettuare anche il riconoscimento automatico delle targhe. Qual è l'incidenza di questi fenomeni di microcriminalità in questo momento, dottore Del Greco? Di sicuro ci sono, quindi non possiamo fare finta di nulla, anche se devo dirla tutta, la criminalità c'è, ma vedo molti più sversamenti abusivi sul fronte ambientale. Quindi il progetto è incentrato sulla sicurezza urbana, ma non abbiamo dimenticato gli sversamenti abusivi che avvengono sul territorio. Questo progetto per una città più sicura ha visto anche il particolare impegno e interessamento della consigliera comunale Carmela Pomposo, da sempre in prima linea sul fronte rifiuti per contrastare i fenomeni di sversamenti abusivi che purtroppo continuano di insistere sul nostro territorio. Grazie a questo nuovo progetto per le telecamere riusciamo a risolvere molti problemi, soprattutto a parte quelle che potrebbero essere su atti vandalici e quant'altro, soprattutto sui rifiuti. Infatti, grazie alle fototrappole che sono state emesse precedentemente, per esempio, faccio un esempio, sul Via Ruggiero, lì sono stati permisi materassi e resti di animali. sono stata contattata dai residenti di Via Ruggiero e prima abbiamo provveduto alla pulizia, poi a una disinfettazione del posto perché c'erano resti di animali e poi è stata installata una fototrappola. Questa fototrappola ci ha permesso comunque di prendere persone che andavano a sversare continuamente nonostante che il posto sia stato pulito, eccetera, eccetera, e sono state multate. Queste telecamere ci permettono di prendere il numero di targa delle auto che fanno questi sversamenti illeciti anche di notte, perché purtroppo all'inizio sono state emesse delle fototrappole che di notte non erano a raggi infrarossi, quindi di notte non ci permettevano di prendere il numero di targa e quindi poi di risalire alla persona che aveva commesso questo scempio. Invece con queste telecamere riusciamo ad approfondire. L'attività di monitoraggio finora ha dato dei risultati attraverso le sanzioni, sono diminuiti gli sversamenti? In alcune zone sì, in alcune zone sì sono diminuite. In settimana sono state fatte comunque delle multe di cittadini che andavano a sversare fuori orario. Ecco, ci sono state alcune multe fatte per dei rifiuti sversati alle ore 19. Invece sappiamo benissimo che si sversa dalle 21 alle 24. In attesa ora che il progetto venga finanziato e abbia il placet del Ministero, comunque i controlli sul territorio continueranno per stanare i trasgressori? Sì, i controlli saranno continui. Ovviamente chiediamo l'aiuto al comandante Visone, che è il comandante dei vigili urbani, che pur non avendo a disposizione molti uomini sul territorio, però ce la sta mettendo tutta. Chiediamo aiuto ai cittadini di darci una mano sia per quanto riguarda i rifiuti e sia per quanto riguarda gli ingombranti. Insomma, dobbiamo lavorare in sinergia, sono importanti tutti e bisogna andare avanti cercando di risolvere il problema. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la redazione all'email redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, rivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale.